Mercoledì della ventesima settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola. Il Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno, e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro Andate anche voi nella vigna, quello che, giusto, ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzo giorno, e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì, e disse loro Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero, perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro, andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore. Chiama i lavoratori, e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto, e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure sei tu invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco Spesso pensiamo che siamo irrimediabilmente in ritardo per poter fare qualunque cosa di decisivo per la nostra vita. La parabola di oggi, con i lavoratori presi a lavorare in orari più disparati, ci interroga esattamente su questo. Fino a che punto possiamo sperare di dare una svolta alla nostra vita, al nostro matrimonio, al nostro lavoro, alle nostre relazioni? Non è forse vero che a volte certe cose ormai sono senza ritorno, senza possibilità di cambiamento? Gesù ci dice che non è mai troppo tardi. Non siamo mai irreversibilmente nella condizione di poter svoltare la qualità della nostra vita. Davanti a Dio non è mai la quantità che conta, ma la qualità. A volte bastano dieci minuti di vita, vissuti bene, a salvare un'intera vita dissipata e carica di errori. Agli occhi nostri, come a quelli dei servi della parabola, ciò può sembrare poco giusto. Agli occhi di Dio non c'è torto, ma passione per ciascuno di noi e per le nostre storie. E per amore di questo non ha paura di esporsi alle critiche dei servi della prima ora, ben sapendo che non toglie a qualcun altro per far preferenze, ma, al contrario, toglie a se stesso per non lasciare nessuno senza necessario. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto, e li è trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Nella logica del mondo, Dio sarebbe stato un imprenditore fallimentare, ma, a quanto pare, nonostante le nostre previsioni, la sua impresa è riuscita contro ogni pronostico. Forse perché la nostra giustizia parte da presupposti diversi dei suoi, e forse perché l'economia di Dio ruota attorno alle persone, e non al mero profitto personale. Il profitto di Dio è vederci felici, non c'è affare migliore che quello di produrre felicità, non semplice illusione o soddisfazione a basso posto. Grazie 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 Grazie